Il calcio brucia tutto in fretta, le soddisfazioni, le amarezze vengono messe da parte in poco tempo. Perché diciamo questo? Perché il tecnico del Pescara, Marco Ibaroni, è passato da un probabile esonero ad un probabile rinnovo di contratto. Sì, infatti è così, è questa l'idea del Presidente Sebastiani che dopo aver valutato il lavoro dell'allenatore, nonostante i risultati negativi iniziali, si pensa di potersi affidare a questo allenatore anche per il futuro. Baroni sta convincendo da due gare a questa parte sulla sua politica, quello intanto di creare un gruppo di lavoro sano e poi anche di sapersi adattare alle caratteristiche dei propri giocatori e i risultati finalmente stanno arrivando. Ma si pensa al futuro non solo per l'allenatore Baroni ma anche e soprattutto per Pippo Maniero, quest'attaccante che in scadenza di contratto a gennaio potrebbe liberarsi, ma la società si sta convincendo sempre di più che sarà utile rinnovargli il contratto. E così il Pescara in prospettiva potrebbe ritrovarsi questa coppia di attaccanti, Melchiorri che ha un contratto triennale e Maniero, la M2 dunque, che rinnoverà sicuramente il suo contratto con la maglia del Pescara. Pensate il caso di Melchiorri, giocatore che in estate era fortemente richiesto dal Cagliari di Zeman, stava accettando il suo rifiuto e è arrivato soltanto grazie alla fidanzata che è di macerata e che lo vuole più vicino a casa. Le storie del calcio sono anche queste. Per fortuna il Pescara ha una M2 anche in prospettiva.